Sì, ho messo su 14 fili, ho fatto i fiorellini, ho fatto le barette da due fili, ho fatto i fiorellini da quattro fili l'uno, adesso qui in mezzo rimango 12 fili, divido metà e faccio le colonne con 12 e con 6 fili, faccio il cordonetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso l'ho dato specchio dall'altra parte, adesso prendo quattro fili, due di qua e due di là, e poi metto due in mezzo, faccio il punto piatto come ho fatto in questo. Solo da un filo lungo, ecco, faccio il nodino, e poi lo punto perché deve stare fermo. Poi adesso lo riporto in fuori, sempre lo stesso modo piatto, due in mezzo e i lati uno di qua e uno di là, e si fa in nuovo. Però ho portato un po' in fuori così. Lo riporto bene e poi lo punto. Lo riporto bene e poi lo riporto bene e poi lo riporto bene. Ecco, deve stare bene e poi lo riporto bene e poi lo riporto bene e poi lo riporto bene. E poi lo punto perché stia fermo, adesso divido in metà e faccio, faccio l'altro cordoncino, ma è la parte di sopra. Così E poi lo punto Perché stia questo Provare di essere a destra Ecco Il cordoncino Adesso sono arrivata fino al fiore La fine dei fiori Che ho fatto Di otto fili Adesso ritorno indietro Incomincio di qui il cordoncino Faccio questo pezzo Ecco Il suo filo E il suo filo Grazie a tutti. 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 8 nodi a catena. 1, con due fili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No, però adesso mi fermo. ecco, 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 ecco. Così. Così. , ecco, 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 ecco. ecco, 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 ecco. ecco faccio divestanza parte adesso ho fatto il cordoncino anche da questa altra parte e poi li leggo insieme, qui in mezzo, così sempre un po' di cordoncino adesso le faccio un altro giro quello di sopra adesso ho chiuso qui in mezzo come vedete adesso faccio l'ultimo giro che è la rifinitura del matrimonio di solo che ormai già avete visto ecco grazie a tutti grazie a tutti